Buonasera, domani sarà una giornata all'insegna dell'instabilità atmosferica a causa della perturbazione numero 3 del mese che porterà nuvole sparse su gran parte d'Italia, improvvisi acquazzoni e temporali sulle nostre Alpi e sulle regioni settentrionali, più giù anche su Toscana, Marche e gran parte del centro-sud, con il rischio di temporali più diffuso sulle zone interne del sud e sulla bassa Puglia. Le temperature massime saranno in lieve crescita sulle zone del centro-nord, in linea con le medie stagionali dappertutto e con picchi di 29 gradi.